ciao ragazze oggi voglio fare un video sui nuovi prodotti che ho acquistato da essence e allora vi faccio vedere questi sono gli scontrini e ho spesso sulle 43 euro e prima cosa vi voglio parlare delle matitte colorate dell'essence sono queste qui, Longo Lasting si chiamano e sono quelle così questi sono i colori, sono verde, viola, blu e marrone una sola passata e le ho pagate 1,99 euro ora vi faccio vedere poi cosa ho acquistato allora ho preso questo blush e l'ho pagato il blush allora il blush 2,99 euro questi sono gli ombretti che ho acquistato questi qui allora questo è il 35 questo è lo 0,1 e questo è 0,2 0,2 e l'ho pagato 1,99 euro ora vi faccio vedere come colorano non so se è riuscito a vederlo qui guardate qui è il 35 questo qui che sarebbe questo molto bello bellissimo faccio vedere lo 0,1 non so se l'ho riuscita a vedere sono colori molto lucidi comunque lo 0,1 questo poi c'è lo 0,2 purtroppo non si vede tanto è un colore tipo che ha i brillantini sul dorato è bello bello mi piace tanto poi ho acquistato anche due luci da labbra due luci da labbra si chiama Essence XXX Shine questo qui questo l'ho pagato mi sembra due euro e 49 non lo so non mi ricordo allora 5,79 2,29 2,29 ed è questo che ho addosso sulle labbra bello bello poi ho comprato questo Stai Stai Matte Lip Cream è molto buono bello e ha un profumo che sa di chewing gum alla fragola allora vi faccio vedere questo Lip Gloss che colore è poi ho comprato questo costa 2,49 costa 2,49 si poi ho comprato questo mascara che è diverso da tutti gli altri che ho è così devo ancora provarlo quindi non so come se effettivamente è buono poi ve lo faccio sapere allora il mascara costa 3,23 euro e 29 poi ho comprato questi tre smalti uno blu uno giallo uno verde e un arancione costano 1 euro e 99 costano poi ho comprato questo qui questo praticamente aiuta a fare le decorazioni sulle unghie a mettere a mettere gli svaroschi sulle unghie eccetera eccetera questo costa 2,49 questo poi ho comprato questi adesivi per le unghie che costa 1 euro e 79 poi ho comprato questo qui un solvente che costa 2 euro e 49 l'ho pagato il video è finito spero che vi sia piaciuto vi sono piaciuti anche i miei acquisti vi mando un grosso bacio ci vediamo al prossimo video ciao